E la navigazione sotto costa, quella di spingersi con la propria barca troppo vicino alle spiagge piene di bagnanti, l'infrazione più sanzionata dalla Guardia Costiera di Salerno. Sono circa 130 le sanzioni amministrative elevate dall'inizio della stagione balneare ad oggi su tutta la costa salernitana. A dirlo stamani, nel corso della conferenza stampa, per chiarire alcuni dettagli in merito alla collisione delle due imbarcazioni a largo del fiordo di furore, costato la vita alla turista americana, il comandante della Capitaneria di Porto di Salerno, il capitano di Vascello Attilio Maria D'Acconto. L'incidente in mare ripropone l'attenzione nelle attività di controllo della Guardia Costiera, alle attività di locazione e noleggio di unità da di porto, sempre più utilizzate dai turisti. Nonostante la chiarezza della normativa vigente, non mancano le violazioni sulla sicurezza della navigazione perpetrate da diportisti occasionali che negli ultimi tempi ricorrono alla locazione e al noleggio di unità da di porto per trascorrere una giornata al mare. I controlli in mare vengono puntualmente svolti lungo tutta la costa salernitana. Non a caso abbiamo elevato circa 130 verbali per navigazione, per comportamenti non corretti da parte di riportisti. Quindi i controlli vengono fatti e qualora vengono rilevati i comportamenti anomali vengono puntualmente sanzionati. L'incidente ripropone la sollecitazione ad effettuare controlli, soprattutto per quel che riguarda il noleggio delle imbarcazioni, un mercato fiorente che è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e che spesso si ritrova anche con una riguardazione poco chiara rispetto ai conducenti, alle patenti enauti, a chi guida le imbarcazioni e alle responsabilità rispetto a terzi. No, noi i controlli li facciamo e chiaramente quando vengono controllati, se sono in regola con tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente, non possiamo fare altro che prenderne atto e lasciare andare il soggetto controllato. Quanto è cresciuto il sistema dei noleggi in costiera amalfitana, così come nel porto di Salerno? Guardi, francamente non glielo so dire anche perché io sono qui da un anno, quindi non ho onestamente un'esatta cognizione di quanto sia cresciuto il fenomeno. Probabilmente, verosimilmente, è cresciuto come è cresciuto un po' tutto il fenomeno diportistico, ma il problema, al di là della regolamentazione sulla materia del diporto. Io dico sempre che la cosa più importante è il rispetto delle norme della navigazione e il buonsenso che deve, dico sempre, improntare i comportamenti di ognuno di noi a maggior ragione di chi va per mare. Quali sono generalmente le irregolarità che avete contestato negli ultimi tempi? Essenzialmente ai diportisti, essenzialmente alla navigazione sotto costo. Grazie a tutti.